Che cos'è la flat tax? È la tassa piatta, una sola aliquota unica e uguale per tutti. Che significa? Prendiamo le tasse sul reddito. Adesso l'IRPEF ha 5 scaglioni. Chi guadagna di più paga di più. Dal 23% si sale fino al 43%. Con la flat tax si pagherebbe una aliquota unica, pari ad esempio al 25% dell'imponibile. La tassa piatta è molto diffusa. In Europa sono molti i grandi paesi che l'hanno scelta, come Russia, Bulgaria o le Repubbliche del Baltico. È conveniente per l'Italia? I contrari la giudicano non progressiva e quindi a favore dei ricchi. Chi la vorrebbe adottare vuole semplificare e sostiene chi aiuti a combattere l'evasione fiscale. Ma quale sarebbe il suo impatto? La pressione fiscale dovrebbe scendere al 39,4% sempre che la spesa pubblica si abbassi al 42,4%.